Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Io rido. Allora, vivo sentimenti contrastanti durante questi ultimi giorni perché io più dico una cosa e più sembra che in realtà pensi il contrario ma in realtà la mia filosofia di pensiero rimane sempre la stessa. Io ho detto sia nel video su Miretti che nell'ultimo video di Gragno che comunque parlare di calciomercato adesso, parlare di trattative e tutto quanto lascia il tempo che trova e poi puntualmente mi ritrovo essere io il primo a parlare di queste cose, a riferirvi a queste cose. Io lo faccio semplicemente per un semplice motivo che non rimango senza contenuti. Quindi ho dei video da pubblicare, per quanto in realtà gli argomenti non mi facciano entusiasmare e ve lo dico con tutta l'onestà intellettuale che ho. A me comunque non viene male creare dei video da queste cose. Il problema che sussiste è la tipologia. Nel senso, io continuo a pensare la stessa cosa che ho detto nei due scorsi video ovvero parlare adesso in queste tempistiche con destini ancora non scritti con tutto ancora in ballo, sentir parlare di calciomercato a me un po' fa venire il sangue freddo perché non è una cosa di, secondo me, umanamente contemplabile un qualcosa di simile. Se ne parlerà poi, anche se già questa voce è più legittimata, è più, anche un po' più pagata la tollero di più, non so per quale motivo, però riesco a tollerarla di più rispetto alle ultime due quella su Miretti e quella su Cragno. Quella su Cragno è proprio allucinante. Però vabbè. Comunque, avete visto, avete letto, sapete. Stiamo parlando di Luvumbo e non come lo chiama qualcuno Luvumbo, anzi, più di qualcuno che in telecronaca o da qualsiasi altra parte si sente dire Luvumbo, Luvumbo. No, regà, è Luvumbo. C'è la ho alla fine. Tanto semplice, molto lineare, molto pulito. Zito Luvumbo. Luvumbo. Bo. Ok. Fatta questa piccola precisazione, di cosa bisognerebbe parlare riguardo a Zito? Niente, del fatto che ci sono delle sirene estere per quanto riguarda Luvumbo. E non mi stupisce più di tanto il fatto perché le qualità del giocatore sono ottime. si vede che ha molta prospettiva per il futuro, può sicuramente diventare un ottimo giocatore, però è ancora un diamante grezzo. E Cagliari è una perfetta rampa di lancio per giocatori come lui, che possono avere un proseguo di carriera più che roseo. mi viene in mente, per esempio, un suo Azzo. Secondo me, suo Azzo ha vissuto il suo momento d'oro a Cagliari. E se ne è andato nel momento più giusto per noi e più sbagliato per gli altri. Perché poi, da quando andò all'Inter in poche poi, se non erro, in realtà andò prima al Milan e poi all'Inter. Però quello con il Milan non so perché poi non giocò mai o fu annullato subito, adesso non ricordo con precisione. Fatto sai che a livello di tempistiche, suo Azzo ha fatto il fritto con noi e poi quando è andato da altre parti, diciamo che lasciava un po' il tempo che trovava. Columbo però non è così, perché lui è un ragazzo giovane e già in primavera ha dimostrato di poter far bene. Lo sta dimostrando ancora di più, secondo me, in Serie A. Seppur a intermittenza, vuoi per infortuni, vuoi per la Coppa d'Africa, vuoi per una qualsiasi altra cosa, l'unica pecca di Lumbo a livello prestazionale è la continuità. Secondo me manca molto quella al giocatore, perché volendo potrebbe essere un giocatore impattante, specialmente se lo si fa entrare a partita in corso. Gli manca continuità e finalizzazione, proprio tecnicamente parlando. Però è un elemento molto molto valido, che sta giocando in un contesto perfetto, in cui c'è pressione perché ci deve essere, però non è la pressione delle grandi piazze, quindi gli consente eventualmente di crescere anche con una relativa tranquillità. È una combo perfetta, perché piazza che non ha elevate pretese, o meglio, non ha, come posso dire, ambizioni particolari e quindi pressioni particolari, devi semplicemente salvarti. Quindi pressioni tollerabili, unito ad un talento, secondo me, più che cristallino, seppur con dei difetti, creano il binomio perfetto per creare un giocatore che a Cagliari può fare bene. E facendo bene è ovvio che attiri pubblico, attiri l'interesse di altre squadre, e in questo caso non si sta parlando nemmeno di una squadretta proprio brutta, perché è lo Sport in Lisbona. Sport in Lisbona che credo che attualmente, vado a controllare, sia prima in classifica nel campionato portoghese. e diciamo che non è proprio pochissimissimo, eh? Cioè, non mi sembra proprio una cosa così malvagia. Classifica? Sì, è prima ed è un punto davanti al Benfica. Tra l'altro è prima con una partita in meno al miglior attacco e la terza miglior difesa. La miglior difesa in assoluto ce l'ha il Porto, la seconda al Benfica e la terza lo Sport in Lisbona. Ed è la squadra che ovviamente ha la differenza reddi maggiore. Tra l'altro Sport in Lisbona che ultimamente sta scoprendo molti, molti, molti talenti e che alcune volte è andato a puntare su giocatori che la Serie A l'hanno fatta e non sono riusciti a essere fondamentali. L'esempio più lampante che mi viene in mente è Bruno Fernandes. Poi c'è quello che stava a Lecce che comunque è diventato una pedina molto importante ma era già importante a Lecce. Però tralasciando questo, stiamo parlando di Lumbo. E il problema è importante. Perché io punterei molto su Lumbo. È un giocatore che a me piace ed è un giocatore che secondo me potrebbe fare al caso nostro per ovvi motivi. Ha un dinamismo che io poche volte ho visto in vita mia. È uno dei pochi che in questa rosa può puntare sul contropiede. È uno dei pochi giocatori che se fatto entrare a partita in corso nel secondo tempo ti cambia radicalmente la partita. Lui è una certezza. Non del 100% ma è una certezza quando entra in campo. Perché sai che qualche grattacapo lo crea e poi forse sarò condizionato io ma ho ancora la prestazione di Cagliari Parma che mi passa davanti agli occhi. Ed è un giocatore eccezionale. Molto forte. Lo Sporting, da quello che si dice su internet ha dimostrato il suo interesse per Zito e potrebbe essere interessato all'acquisto. Io vi dico la mia e non so se rispecchierà anche la vostra. A prescindere la sua cessione sarà dolorosa. Dolorosa perché comunque è uno dei pochi elementi che ce l'hanno fatta della nostra primavera. È un giocatore che ci siamo cresciuti è un giocatore che ci siamo coccolati è un giocatore che è anche un po' diventato un meme perché buongiorno Zito Lumbo Zito Piacere cioè Piacere Lumbo Zito Piacere lo Chef e tutto quanto quindi è anche un po' un meme però effettivamente calcisticamente parlando io ci sono molto affezionato perché essendo canterano rosso-blu provo un molto più sentimento nei confronti di Lumbo rispetto a quello che potrei provare nei confronti di un qualsiasi altro giocatore del Cagliari che non abbia fatto la primavera. Vuoi anche che è la sua giovanità a farmi voler bene a questo ragazzo perché nonostante non è che io abbia tutti questi anni mi immagino un po' di di crescermelo. Ecco, è una sensazione che non ho mai avuto perché per ovvi motivi sto invecchiando adesso quindi mi dispiacerebbe però potrebbe essere necessaria se non addirittura indispensabile la sua cessione perché penso che sia uno dei pochi che ti potrebbe far fare cassa è uno dei pochi cioè uno dei pochi sicuro che lui ti frutti una plus valenza perché se non erro il Cagliari lo pagò un milione di euro a suo tempo dal 1ro di agosto squadra angolana comunque un milione di euro per un giocatore africano ancora minorenne non è poco per niente poi sul ragazzo comunque c'erano le tracce di altre squadre molto più blasonate tipo lo United e per qualche assurdo motivo ce lo siamo accaparrati noi a noi va benissimo così e quindi questo comporta una plus valenza sicura però quando è il momento di cederlo è il momento di cederlo è giusto cederlo io la risposta definitiva non ce l'ho ho una mia idea che è la più banale e la più ovvia possibile ovvero se si rimane in serie A tenerlo fino alla morte a meno di offerte faraoniche tenerlo fino alla morte o al massimo al massimo cederlo ma farcelo lasciare un altro anno in prestito all'audoge maniera ok per farvi capire mentre se si retrocede la cessione sarà inevitabile purtroppo avverrà anche ad un prezzo decisamente svantaggioso perché non potremo dettare più di tanto legge in quel caso il ragazzo con tutte le offerte temo spingerà verso la cessione giustamente perché la sua carriera non deve essere per forza legata a quella del Cagliari parliamoci chiaro ormai dobbiamo partire col presupposto che le bandiere non esistono più quindi chi si sente unito alla causa ed è contento di rimanere lo farà tranquillamente ma noi partiamo già con l'idea che nessuno lo faccia così al massimo rimarremo contenti per quelli che vorranno farlo a fronte di una situazione simile è chiaro che lui tenderà per una cessione e lì purtroppo non avremo il coltello dalla parte del manico e non potremo ricavare quanto vale veramente il giocatore se non addirittura qualcosa in più perché alla fine si tende sempre a fare quello e mi dispiacerebbe mi dispiacerebbe non tanto per il lato economico ma proprio per il lato umano perché io penso che comunque lui volente o non volente si sia legato all'ambiente Cagliari alla piazza anche vedendolo tramite il suo account Instagram è comunque un ragazzo che ci tiene e si vede si vede anche quando scende in campo quindi una sua cessione qualora arrivasse un'offerta concreta e tangibile deve diventare importante e cruciale solo nel caso di un'eventuale retrocessione e che noi tutti ovviamente ci auguriamo che non sia così sia per la cessione di lo umbo sia per la retrocessione nel caso di permanenza in serie A io valuterei molto bene le condizioni perché in quel caso abbiamo decisamente di più il coltello dalla parte del manico che poi il giocatore voglia spingere o meno per la cessione quello è un altro paio di maniche e se vuole può farlo anche in quel contesto però diciamo che lì ce la possiamo battere un po' di più siamo un po' più padroni del nostro destino per come la vedo io e lì sarà importante lui sarà importante lui perché potrebbe essere uno delle prime pedine su cui costruire un eventuale progetto potrebbe essere uno dei giocatori che ci permetterà di ampliare questo progetto grazie proprio alla sua cessione quindi comunque il suo sforzo in qualche modo sarà ripagato e basta cioè secondo me questo è quanto ripeto a me dispiacerebbe cioè dispiacerà perché io penso sia inevitabile dispiacerà tantissimo però d'altronde non si può fare altrimenti a meno che l'anno prossimo se rimaniamo in Serie A incominciamo a fare un campionato come Cristo comandi e a lottare per un traguardo che non sia solo la mera permanenza in Serie A in quel caso forse potremmo pensare di rendere effettivamente l'Uumbo la pedina fondamentale di questo Cagliari più importante in quel caso sì ma fino a quel momento purtroppo è uno dei tanti e va trattato come uno dei tanti consci che il suo valore potrebbe schizzare alle stelle tra l'altro una mia piccola curiosità senza che ve lo faccio vedere voglio controllare qual è al momento attuale il suo valore di mercato secondo Transfer Market così al volo sì ho scritto ito perché ho scritto ito perché la mia tassiera si è sminchiata perfetto quindi sito lumbo al momento attuale Transfer Market dice che vale 6 milioni di euro ha un contrato di scadenza nel 2027 i presupposti per rimanere ci sono quindi staremo a vedere staremo a vedere e niente ragazzi il video finisce qui fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo non ci becchiamo in un prossimo video bella